Annuncio ricazzo, il treno intervisti 727 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini e diretto a Siracusa, nelle ore 20.58, arriverà al minato 1 con un ritardo previsto di 20 minuti, diversamente da quando già annunciato. Anuncio ricazzo, il treno intervisti 727 di Trenitalia, 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 Anuncio ricazzo, il treno intervisti 827 di Trenitalia, Anuncio ricazzo, il treno intervisti 727 di Trenitalia, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.